Le partite di basket si vincono anche in questo modo. Due secondi e sei decimi dalla fine, i Tigers, dopo essere stati sotto per quasi tutta la partita, riescono a recuperare il risultato con uno strepitoso ultimo quarto e a portare il match ai tempi supplementari. Qui De Fabritis fa uno su due ai tiri liberi a otto secondi dalla fine e Tyrell risponde con una bomba da tre punti che porta i padroni di casa in vantaggio di un punto a due secondi e mezzo. Tanto basta però alla coppia Daniello Burkic per firmare il capolavoro. Il primo lancia dalla linea laterale, il secondo sfrutta un blocco di De Fabritis e fa partire la festa dei Tigers. È la quarta volta in stagione, probabilmente non un caso. Cesena che quindi si porta a casa a gara 2 dei play-off e ora attende Orzinuovi tra le mura amiche e saranno due giorni di fuoco con una gara 3 vietata ai deboli di cuore. Domenica 2 giugno alle 18 e martedì 4 giugno alle 21 per replicare lo straordinario spettacolo di gara 3 contro Piombino.